La torre panoramica continua a crescere. Superati gli intoppi degli ultimi giorni, con i camion impantanati nei giarnini della sfera grande e poi liberati con una ruspa, la struttura comincia ormai a prendere forma, a lievitarie, insieme al dibattito che ha monopolizzato l'attenzione in città. A parte le questioni di gusto, però, c'è anche chi lancia dubbi sull'intera operazione, come Fabio Pierleoni, presidente dell'associazione Angele Diamatrice, che questa mattina ha condotto una piccola protesta proprio sotto la torre. Ci sono dei costi di esercizio. Che sono l'elettricità? Uno dice, vabbè, l'elettricità quanto incide? Visto che io in quattro giorni pagavo 680 euro, ho detto, ma qui per dieci mesi, questi signori, quanto pagano? Innanzitutto l'Enel va pagata prima, perché questa è una fornitura straordinaria. Quindi la fornitura straordinaria va redatta con un contratto a parte. E qui parliamo di un contratto di 54 mila euro, 54 mila euro che dobbiamo pagare noi. Quindi voglio dire al signor Belloni Enzo, che mi ha scritto un post dicendo che lui si dimetteva se venivano fuori, che c'erano dei costi, che noi li stiamo trovando questi costi. Abbiamo posto il quesito direttamente all'assessore Belloni. Per l'amministrazione comunale ha costo zero. Zero vuol dire che noi non mettiamo un centesimo del nostro bilancio né sulle utenze, né sull'installazione, né sullo smontaggio della torre. Sarà a carico dell'imprenditore anche la risistemazione del prato. L'energia elettrica assolutamente il comune non la pagherà? No, assolutamente no. Poi gli atti di un comune sono tutti pubblici, ci sono dei termini, ci sono dei liberi che dicono chi deve fare che cosa. Noi siamo convinti che una struttura come questa, pur capendo anche quelli che possono essere opinioni differenti di molti cittadini, noi pensiamo che possa portare in città tanti curiosi. Una versione confermata dallo stesso assessore alle attività economiche Luca Bartolucci. Quella struttura è una struttura che ha buone possibilità di riuscire a mantenersi abbondantemente da sola dal punto di vista economico finanziario. Per quanto riguarda la fornitura elettrica assolutamente non è stato dato nulla da parte del comune, ci mancherebbe anche, anzi la società ha già aperto il contratto con l'Enel quindi pagheranno, ci mancherebbe anche, pagano quello che devono pagare ed è giusto che sia così, ci mancherebbe. E anche per quanto riguarda il ripristino dei giardini, una volta finita l'operazione sarà una cosa sempre a carico della società? Assolutamente. Abbiamo aggiunto questi blocchi di cemento per stare ulteriormente tranquilli e sicuri, cosa che stiamo facendo. Alla conclusione di questa, appunto, quando verrà smontata la torre, verranno tolti e ripristinato il prato così come era prima. Sulle risposte dei politici però il Conte Pinoli continua ad avere dubbi. Costano le cose, dopo se non le pagano direttamente il comune ma le fa pagare all'AMG, le fa pagare alle associate, sono tutti giri però alla fine paghiamo noi, le tasse le paghiamo noi, non credo che Ricci tiri fuori i soldi suoi, bisogna ascoltare prima i cittadini, prima di decidere di fare, perché adesso qui sembra polemica, se invece avessi parlato prima di farlo avrei detto le mie cose, può darsi che le avrebbe ascoltate, ormai bisogna accettare quello che è stato deciso. È una città viva, con tante persone di valore, che potrebbe dare tante idee, vengono invece tutte non ascoltate perché uno decide da solo. Non mi si venga a dire per concludere che può portare turismo, perché non è che uno viene appeso perché c'è la torre, cioè chi ha girato il mondo di torre ne ha viste mille, chi non ha viaggiato per quelli che sono così un po' paesani potrà anche sembrare, ma insomma qui abbiamo la fortuna di avere San Bartolo, andiamo a San Bartolo abbiamo la panorama più bella che da qui.